Un giorno speciale nella piccola Barbianello fra spensieratezza, felicità e anche dolore per le quattro giovani vite spezzate a cui sono stati intitolati il nuovo giardino della scuola materna e il nuovo parco giochi. A loro Francesco Segala, Alice Taschieri, Thomas Arrivati ed Enea Vidali, scomparso quest'ultimo a febbraio in un incidente di moto a Redavalle, tutti giovani cresciuti in paese che hanno avuto in sorte, in diverse circostanze, in diversi momenti. Una morte prematura è andato in ricordo del comune che nell'occasione ha inaugurato questa nuova area al servizio dei bambini all'esterno della scuola dell'infanzia da poco ristrutturata. Oltre al sindaco Giorgio Falbo, appena riconfermato alla guida del paese, alla dirigente scolastica Chiara Montanari, ai sindaci dei paesi limitrofi, a diversi insegnanti e associazioni erano presenti anche l'assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini e il presidente della provincia di Pavia Giovanni Palli. Ci vediamo qua, ci troviamo qua, perché per onorare tre scolari della materna che sono morti, che prima giocavano in quattro giorni di nuovo. Siamo riusciti a iniziare l'anno scolastico in una scuola praticamente nuova, dopo un grosso sforzo da parte dell'amministrazione comunale per riuscire a reperire i fondi e a consegnare in tempo la scuola per l'inizio delle lezioni. Questo parco, che adesso è stato piantumato e quindi è ancora in fiery, rappresenta un po' il completamento insieme al parco giochi che c'è nell'area adiacente, che sarà a disposizione della scuola durante le lezioni e a disposizione di tutti quando poi l'asilo è chiuso. Grazie. 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 Grazie.